E quindi tu sei già all'opera con questo, no? E cosa stai tritando? Senti Nick, sono all'opera perché la ricetta è un po' lunghetta. È lunghetta questa qua? Sì, bravissimo. Ricordiamo che cosa stiamo facendo, che cosa... Senti, stiamo preparando delle frittelle, quindi una ricetta piuttosto anche proteica, delle frittelle con della farina di ceci, dei semi di zucca, delle erbe, in questo caso della saglia, e queste frittelle le serviremo in posizione verticale con anche dei chutney e poi prepareremo un bicchierino da bere con gli scarti della mela. Qui c'è la parola magica, chutney. Allora dovete sapere che io sono abbastanza innamorato del chutney da tantissimo tempo perché vivevo in Inghilterra e in Inghilterra l'Inghilterra è abbastanza indiana per alcuni versi, per cui mi sono innamorato del chutney, che in verità è una ricetta bengalese, correggemi se sbaglio. Sì, esatto, il chutney sono... Ed è qualcosa di molto interessante perché il chutney molto spesso è piccante e lo si serve all'apertura dei pasti. Che cosa succede quando tu mangi un piccante all'inizio del pasto? Il piccante apre le papille gustative, quindi serve a ricevere il cibo. In più si associa molto spesso a qualcosa di fritto perché aiuta a digerire qualcosa di più pesante come il fritto che... Senti Nick, io ho fatto questo, ho messo dell'acqua fredda all'interno di questa bowl per disciogliere la farina di ceci, come vedi. Non posso utilizzare l'acqua calda, altrimenti si formano dei grumi. Quindi acqua fredda, la restante acqua l'ho messa sul fuoco insieme alla salvia che abbiamo tritato. Ah, la salvia ce l'hai messa là dentro? Sì, così il liquido si aromatizza. Il sale, che ovviamente è pesato. Va bene. E poi abbiamo questi semi che però... Di girasole? No, di zucca. Questa è zucca gialla, però andavano bene anche di girasole. Le proprietà sono abbastanza... non sono molto dissimili. E in questo modo cercheremo di creare prima di tutto una polentina. Questa polentina la stenderemo sulla placca, la faremo raffreddare, poi le taglieremo a quadrati o a toni. E poi friggiamo. Poi le friggiamo in modo da ottenere delle frittelle croccanti e poi queste frittelle le serviremo, come ti dicevo prima, insomma. Colciatemi. A proposito di fritto, raccontami che cos'è il fritto nella Ayurveda. Allora, nella Ayurveda si dice che il fritto dovrebbe essere consumato regolarmente. Non magari due volte al giorno, però all'interno di un menù settimanale può comparire due o tre volte. Ce l'abbiamo fatta, possiamo mangiare il fritto. In realtà anche la macrobiotica dice la stessa cosa. Noi a volte demonizziamo il fritto. Ma perché? Perché spesso il fritto non viene fatto bene. L'olio di frittura magari ha una temperatura troppo bassa e quindi penetra nell'alimento e lo rende molto pesante. In Ayurveda si usa tantissimo la farina di ceci al posto della farina per creare la pastella. E quindi la proteina all'esterno, l'olio o il ghi, quindi il burro chiarificato, viene portato a 180 gradi. In questo modo la verdura impastellata con la farina di ceci subito diventa croccante e nell'arco di due o tre minuti è già pronta per essere servita. E insieme alla pastella sono aggiunte delle spezie riscaldanti che aiutano anche la digestione, come i semi di comino, i semi di finocchio, anche il cardamomo. Quindi è importante che ci sia anche una piccola porzione di fritto. Non è sconsigliato. Ok, continuiamo. Allora vi raccontavo del peperoncino, o meglio della questione del piccante. Come ho scoperto questa storia? Anno 1993 volo Londra-New York su India Airlines e mi vedo servire della polvere piccante con delle spezie prima di mangiare. E chiedo che cosa fosse e mi dicono molto spesso quando noi viaggiamo in aereo pensiamo che il cibo dell'aereo sia cattivo. In verità è una questione di pressione perché si chiudono le papille gustative per via dell'altitude. Quindi che cosa facciamo sia a casa in India sia ovviamente sul volo? Facciamo in modo che si aprano le papille gustative in modo da ricevere il cibo e sentirlo ancora di più. Quindi svelato il trucco. Se ci portiamo in giro del peperoncino tutte le volte sentiremo i sapori che saranno molto più forti, molto più gradevoli. Quindi polenta, diciamo polenta più o meno. Ma non è sbagliato. Non è sbagliato. Noi in cucina possiamo anche usufruire di queste licenze poetiche. Licenze poetiche. Senti. No, non sapevo come chiamarla perché assomiglia molto alla polenta. È tipo una crema molto più densa. Eccola qua. Magari riusciamo a vederla. Questa camera? Quella camera? Quella camera. Ecco, un po' più densa. Perfetto. Quindi va in placca, si raffredda e poi la tagliamo e poi la friggiamo. Per adesso c'è soltanto la savvia. Aggiungiamo i nostri semi. Semi. Semi tritati grossolanamente. Giriamo con la spatola in modo da creare un composto piuttosto omogeneo. A che cosa servono i semi? Servono a rompere la testura del ceci. Altrimenti sarebbe molto omogeneo, anche troppo. Il semi serve per così anche creare un elemento croccante all'interno di questa frutta. Sì, perché dobbiamo sempre pensare, quando cuciniamo, ad avere le texture, come le chiamano lui e io le chiamo texture, ad avere delle consistenze diverse. Quindi se abbiamo un morbido, dobbiamo avere un croccante in modo da equilibrare sempre. Oppure, come in alcune tradizioni culinare, si può andare anche per assonanza. E quindi creare una consistenza monotonica. Cosa intendi per assonanza? Assonanza vuol dire trovare magari una ricetta con tutti gli elementi o croccanti o tutti gli elementi morbidi. Allora, Nick, i chutney in India possono essere fatti sia con le verdure di stagione, sia con la frutta. La nostra ricetta prevederà l'utilizzo della mela. Quindi, a questo punto, mettiamo in frigorifero la nostra polentina. Quello è il tuo frigo? Questo è il frigo in frigorifero, televisivo, sì, sì. Immaginate che quello sia un frigo. Raffreddati, raffreddati. Raffreddati. Senti, noi passiamo al chutney. Ovviamente l'abbiamo già... Abbiamo già cotto. Sì, l'abbiamo già preparato. Come l'abbiamo fatto? Guarda, prendiamo le nostre mele, che sono delle mele, come abbiamo detto prima, martigiane. Quelle martigiane, locali. Siamo macerata, quindi. Una cosa importante, Nick, le bucce le conserviamo. Le conserviamo perché vogliamo creare una specie di bevanda molto salutare. Con le bucce? Con le bucce, quindi. Ricordiamo ancora una volta che quando si usano le bucce di qualsiasi prodotto, il prodotto deve essere? Deve essere biologico o ancora meglio biodinamico. Ok. Allora, guarda. Noi abbiamo scomposto, in questo caso, la mela. La mela, la polpa, viene messa in una piccola padella, in una casseruola, con delle spezie riscaldanti. Quali sono? Noi abbiamo utilizzato il cardamomo, l'anice stellato, il chiodo di garofano e poi abbiamo messo dei pezzettini. Del peperoncino. C'è un proverbio bengalese che dice che il chutney deve essere così goloso da non poterne farne a meno, ma altrettanto piccante da poterne mangiare soltanto un cucchiaino alla volta. Quindi queste sono le categorie, ok? Quindi il nostro chutney, come vedi, Nick, è realizzato con le spezie che ti ho detto, in più la cannella, il ginger, l'alloro e anche le scorze di limone. Buon. Ok? Ok. E questo è il chutney. Con le bucce, con le bucce cosa abbiamo fatto? Le abbiamo messe insieme a dell'acqua, con sempre le stesse spezie, in modo tale da creare una bevanda leggermente colorata, ecco a te, leggermente colorata e che si adatta molto bene a questa preparazione. Molto delicata. Sì, è molto delicata. È una tisana molto ayurvedica. Io quando vado a fare le pratiche ayurvediche, depurative, nelle cliniche, negli ospedali che si trovano adesso anche in occidente, la prima cosa che mi fanno fare è appunto bere la mattina dell'acqua leggermente salata. Siamo sulla buona strada. Salata e anche portata a circa 40 gradi, insomma, temperatura del corpo. Senti, io sto tagliando grossolanamente il nostro chutney con il coltello, quindi non utilizzo il mini pimer, altrimenti creo una crema. Mi piace più lasciarlo più grossolano. No, benissimo. Senti, ma qui ci sarà anche dell'aceto, sbaglio? No, l'aceto non compare nei chutney, perché nelle tradizioni, soprattutto ortodossi indiane, l'alcol non è visto di buon occhio. Quindi i chutney, forse quelli che hai visto a fare... Quindi il forte che io sento nel chutney non è... Sono le spezie, a volte mettono il succo di ginger. Ah, ok. Può essere quello. Bene, abbiamo la nostra preparazione, riprendiamo la nostra polentina. Dopo averla lasciata in frigorifero alcune ore, si crea una specie di massa molto stabile. Toccalo pure, questo è il frigorifero dopo circa 4 ore. Dura. Utilizzo questo stampo, è uno stampo molto utilizzato anche in pasticceria, un coppapasta quadrato. Ecco qua. Possiamo avere qualsiasi forma? Sì, certo, certo. Non è come il pane che deve essere sempre tondo? No, 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 non importa. Noi utilizziamo per fare queste frittelle dell'olio di arachidi, perché è un punto di fumo piuttosto, insomma... Più alto. Sì, esatto. Bene, queste nostre frittelle poi vengono fritte. Ok, queste vengono fritte. Vengono fritte in olio di arachidi, abbiamo detto per circa 4 minuti. Ok. 180 gradi in modo da ottenere una consistenza di questo tipo. Io ovviamente per ragioni legate al nostro servizio l'abbiamo già fritte. Vedi, si sono gonfiate. Non me la mangiare, eh? No, non te la mangio. Perfetto. Per prima cosa filtriamo la nostra tisana. Ok, vedi? La buccia rossa ha colorato il nostro liquido. E questo, mi passi un bicchierino per favore, trasparente. Perfetto. E questo è il primo elemento. Ok. Lo possiamo appoggiare bravissimo qua. Nell'altro bicchierino mettiamo il chatni. Così. In maniera disomogenea. Perfetto. Hai sempre degli elementi perfettamente simmetrici, però altri elementi devono essere casuali. Ok. Poi, qui abbiamo della maionese, della maionese fatta con il latte di mandorla. Prendiamo un coppapassa al contrario e lo beviamo. Ah, vabbè. E facciamo un gioco. Ah, questa è bellissima sta cosa. Ok. Guarda. Basta così. Perfetto. Voilà. Fatto. Adesso mettiamo il primo bicchierino, lo mettiamo così. Poi mettiamo le nostre fratelline appoggiate in verticale. Ah, in verticale. Sì, l'avevi già detto. L'avevo detto. Questo potrebbe essere un piatto principale, quindi anche un secondo piatto. Magari con una piccola insalata accanto, oltre agli insalati che utilizzeremo per, diciamo, la decorazione. Il nostro chutney. Eccolo qua. E poi cominciamo a mettere questi supporti in verticale. Ma ti volevo chiedere, tu quando studi un piatto lo vedi prima o pensi prima agli ingredienti? Senti, entrambe le cose. A volte può essere anche un viaggio, una suggestione. Bene, il piatto è finito. E' pronto. Acciatli, frittelle, insalata e bevanda con gli scarti di mani. Ma ci mettiamo una forchetta? Io direi un cucchiaino, un cucchiaino per il chutney, perché potresti prenderlo, servirlo sulla frittella con l'insalata e via. Oh, non è male? Non è male? Non è male.